La VL resta immersa mani e piedi nel suo stato di crisi sempre più mortificante. A Milano l'Urania si impone 77-60 al cospetto di pesaresi che reggono un tempo per poi sfaldarsi. 20 minuti di lotta con i primi due quarti chiusi sul 37-33 per i padroni di casa, poi nel terzo quarto l'Urania infila un break e la VL non ha la forza né la tenuta mentale per riprendersi. L'Urania nel terzo quarto va sopra di 12 prima di accomodarsi alla fine dell'ultimo parziale con un più 17 finale. Per la VL 17 punti di Maretto e 13 di Amad. Nella pallavolo esaltante terza vittoria consecutiva per la Megabox Vallefoglia che dopo Perugia e Busto Arsizio espugna anche la Tana della matricola Talmasson hissandosi a nove punti in classifica alle spalle delle sole Conegliano e Milano. Sembra tutto in discesa nel primo set per le ragazze di pistola che invece subiscono la rimonta delle padrone di casa che vanno sull'1-0. Le Tigri però non si deprimono e si aggiudicano con disinvoltura e successivi tre set 25-13, 25-14, 25-19. Esulta anche la Fiorini-Pesaro Rugby che a Muraglia trova la prima vittoria della stagione giocando un bel rugby vincendo 38-12 per la conquista di cinque punti in classifica. Nel primo tempo una meta di Venturini e due di Fenner portano i Kiwi sul 19-5. Nel secondo tempo altre tre mete di Antonelli, Fenner e Dall'Acqua mettono il fiocco al primo successo. Nel calcio torna in campo la Vispesero domani sera nella trasferta infrasettimanale di Gubbio. In Umbria i biancorossi arrivano sospinti da un debordante 4-0 sul Carpi che vale il settimo posto in classifica. La squadra di Stellone riemerge da quattro pareggi consecutivi rifilando un poker agli emiliani. Mancavano i gol degli attaccanti, arrivano due doppiette per Nicastro e per il 19enne Alvino Coro, man of the match che trova i primi gol in carriera da professionista. Nel calcio a 5, l'Ital Service cade alla prima casalinga in uno schizofrenico 5-4 con la L84 Torino. I piemontesi vanno sul 3-0, poi pesero a corsa con Barichello, ma Torino va sull'1-5. L'Ital Service ha però la forza di segnare tre gol in due minuti con una doppietta di Otomeia e Gagliani e per poco non sfiora il pareggio.